Ciao, sono Matteo, sono uno studente della Fondazione TS Energia Piemonte e devo iniziare il secondo anno del corso Energy and Circle of Economy Specialist. La principale motivazione che mi ha spinto a scegliere questo corso è stata la mia voglia di conciliare lo studio con un'attività pratica, quindi avere un risvolto pratico più immediato come lo stage che ci offre la Fondazione. Un'esperienza interessante che abbiamo fatto l'anno scorso con il corso è stata la visita alla centrale in Valle d'Aosta dei Valpelline nella quale abbiamo visitato l'impianto e visto come funziona la centrale di produzione idroelettrica. Inoltre sempre l'anno scorso abbiamo avuto molto ore di lezione sulle filiere del trattamento dei rifiuti e questo è stato molto interessante per me perché mi ha fatto capire l'importanza del recupero materico e energetico dai rifiuti. Per te che stai valutando l'idea di iscriverti a questo corso di studi voglio consigliarti di controllare bene quali sono i piani formati dei vari corsi della Fondazione e di cogliere sempre l'opportunità di relazione con i docenti provenienti dal mondo del lavoro. Per il mio futuro mi auguro di trovare un'azienda nel settore della produzione dell'energia elettrica rinnovabile e di trovare in essa una mansione come manutentore elettrico. Se stai scegliendo di cosa fare dopo il diploma ti consiglio di prendere in considerazione questa opportunità. Ciao a presto!